Parte importante dell'organizzazione Lidia Ermini della Misericordia, con lei, anche con lei, nasce l'idea di questo appuntamento. Allora signora Lidia, le do del tu, ti do del tu. Come nasce e da dove parte? Cioè, questa passione nasce molti, molti anni fa e me l'ha trasmessa mia madre e poi per curiosità sono andata all'Aquila e ho conosciuto un insegnante di Tombolo, che è Cristina Bravi. Sono andata a lei per diverso tempo e ho imparato. Poi niente, è successo che ad Antrodogo tutti avevano voglia di fare qualche cosa e mi hanno chiesto dai facciamo qualcosa, facciamo rivivere Antrodogo. E ho detto, guarda, l'unica cosa che so fare io è il Tombolo. E mi hanno detto, perché no, iniziamo. Vogliamo spiegare ai telespettatori cos'è il Tombolo? Il Tombolo è un merletto molto antico, risale al 1371. Lo hanno portato ad Aguila delle Suore e da lì è diventato il gioiello del merletto. Quindi regine hanno voluto queste cose ricamate, applicate nei loro vestiti.